Salve, sono Enzo Costanza, l'uomo dei cartelli. Ne ho trovato alcuni simpaticissimi, ma ancora più simpatici sono i commenti. Davanti a una scuola media il preside ha scritto Rallentare uscita scolari. Un alunno ha scritto sotto Se proprio non volete rallentare, mirato professore matematica. Questo invece l'ho trovato davanti al bagno di un bar. Il gestore ha scritto Fai pipì col cuore. Fai pipì contento, ma per favore falla dentro. Una persona ha scritto L'ho fatta contento, l'ho fatta col cuore, ma per leggio cartello L'ho fatta da fuori. Questa è bellissima perché a Napoli in un parcheggio Un signore ha scritto Si prega di non parcheggiare le auto a spina di pesce. Un altro signore ha scritto sotto E nemmeno a cazze cane. Scusate la cattiva parola, ma quando ci vuole ci vuole. Davanti a un negozio Il proprietario ha scritto Ripariamo qualsiasi cosa. Una persona ha scritto sotto Sì, ma bussate forte perché il campanello è rotto. E quando rimanano? Davanti ad un alimentare Il proprietario ha scritto Vietato l'ingresso ai nomadi. Un signore ha scritto sotto Ma i cugini di campagna possono entrare? E per concludere Ecco che a Napoli hanno messo Dei cartelli contro i borseggiatori. Sul pullman E su un bus c'era scritto Attenzione, su questo pullman c'è un borseggiatore. Una signora ha scritto sotto Meno male Pensavo che c'era un controllore. Eccomi Sono l'uomo dei cartelli. Grazie a tutti Lee Grazie.